Ogni mattina dedico del tempo a connettermi a due frequenze molto specifiche. La prima è quella di sentire se e come sono felice di esistere. La seconda è quella di sentire se o meno sono libera di esistere. E quello che accade in questa sintonizzazione quotidiana è come rinnovare una promessa, rinnovare una consapevolezza che il mio intento profondo di essere qui è quello di elevare la mia energia, di poter integrare totalmente la percezione di chi siamo veramente, di chi sono veramente. Vorrei veramente che ci concedessimo un attimo per renderci conto che in quest'epoca, per la prima volta, così tante persone iniziano ad avere come loro priorità una consapevolezza diversa. Tanti maestri in tante epoche hanno parlato dello spazio della presenza, dello spazio della connessione, oltre all'identificazione con i pensieri, con la mente, con il corpo. Ma per molto tempo è stato qualcosa destinato a poche persone. Questo è il tempo in cui sempre più persone si stanno aprendo a realizzare che c'è uno spazio, pura presenza, di piena luce, sempre accessibile. La sfida e l'invito con cui vorrei quindi iniziare questo viaggio insieme è quanto ogni giorno questa è la nostra priorità. Quanto ogni giorno ci dedichiamo veramente ad esplorare questo, a diventare familiari con ciò che siamo. E' solo un modo per essere onesti con noi stessi. La nostra priorità. A cosa dare la nostra energia. Vedremo nel corso dell'incontro di oggi cosa significa entrare nell'età dell'acquario, cosa significa che ci stiamo lasciando in qualche modo alle spalle l'età dei pesci. Il primo indizio è che nell'età dei pesci, che ci ha preceduto, che comunque è ancora in corso, adesso sui tempi c'è tutto un dibattito, ma quello che ci interessa è che c'è stato un grande mettere a fuoco la necessità di una guida esterna, la necessità di affidarsi, la necessità che qualcun altro ci salvasse. Per me l'intento di questo viaggio insieme è quello di iniziare a entrare consapevolmente in quello che nell'età dell'acquario, l'acqua, la conoscenza, è qualcosa che passa dalle nostre cellule, è qualcosa di cui prendiamo la piena responsabilità. Questo è il momento per non attraversare più la parte della teoria spirituale, ma poter vivere ciò di cui parliamo, veramente camminare le nostre parole. Vi svelo un piccolo segreto, cioè che per la prima volta negli ultimi mesi ho iniziato veramente a connettermi con la possibilità di forme così diverse da quelle umane. Cosa intendo? Adesso ci arriveremo piano piano nell'importanza che abbiamo qui di integrare e vivere totalmente la nostra incarnazione umana, però proprio ultimamente ho avuto una percezione estremamente concreta del fatto che il sole sia vivo, che nel presenza di forme, di una saggezza incredibile. E' stata un'intuizione, non ve la so di scrivere diversamente, però quello che sento di invitarvi è di ricollegarci a questo grande padre nella percezione che c'è una saggezza che sta cercando di comunicare livelli sempre più sottili e importanti di informazioni in una quantità di tempo più veloce. E per far questo c'è bisogno della nostra disponibilità. Cosa vuol dire? C'è bisogno della nostra disponibilità ricettiva. E' come se dovessimo abituarci pian piano a delle frequenze diverse. E in che modo ci abituiamo a frequenze diverse? Iniziando pian piano ad esserci più a contatto. Ti ricordo spesso che per me la vicinanza a tante guide nel corso del mio percorso che non finisce mai perché non c'è mai una vibrazione a cui si smette in qualche modo di abituarsi è proprio quella di permettere a tutto il nostro apparato di avere il tempo per alzare la sua vibrazione. E per far questo in primis dobbiamo avere una consapevolezza che ci vogliamo spostare in un'apertura in una frequenza a cui non siamo abituati. Già avere questa consapevolezza di poterci connettere ad esempio in questo caso specifico con il sole ad una frequenza, ad una vibrazione diversa necessita la nostra apertura ad incontrare il sole a dialogare in una modalità diversa che spesso accade semplicemente dalla disponibilità dell'ascolto dalla disponibilità dell'apertura del cuore che nell'apertura del cuore c'è proprio questo c'è il chiederci la disponibilità ad aprirci cioè a piegarsi anche quando qualcosa ci sembra molto duro a non irrigidirsi né su dei concetti né su delle credenze ma rimanere aperti aperti a che cosa? Aperti ad incontrare le paure, le difficoltà semplicemente attraverso una fiducia una fiducia totale in questa possibilità di unione in questa fiducia verso la vita questo per me è già una grandissima ricchezza di ciò che abbiamo fatto all'inizio cioè aprirsi al contatto con il cuore provate semplicemente a immaginare la potenza che possiamo toccare nel nostro aprirci con il cuore alla fiducia della vita la fiducia del sole basta un intento portare a questo la consapevolezza e ogni volta in cui ci perdiamo sapere che possiamo riattivare questo tipo di incontro sentite in queste pause come qualcosa si apre come qualcosa si attiva e qualcosa inizia a muoversi più velocemente per far sì che queste informazioni che queste trasmutazioni accadano c'è bisogno della nostra disponibilità ad esserci a starci a sentirle è possibile che molti di noi in questo periodo sentano un velocizzarsi di tante cose di tante sfide di tante paure di tante difficoltà ricordiamoci però che quando abbiamo la percezione del tanto da affrontare vuol dire che dentro di noi c'è un potenziale pronto per far emergere un nuovo talento per far emergere una nuova forza ricordiamoci quindi che insieme a queste sfide insieme alle paure alle difficoltà stanno arrivando anche la possibilità di ricontattare tanti talenti di ricontattare tante capacità di ricontattare delle sensibilità nuove questo è un dono che questi giorni ci stanno portando in questa accelerazione di rispondire un paure un350 Grazie.